musica buonasera a tutti io sono Niko-san io sono Ila no tu sei Ila-san Ila-kun no non possiamo essere giapponesi per oggi buonasera a tutti ragazzi io sono Nick sto scherzando io sono Ila bentornati sul nostro canale oggi ragazzi siamo qua per sbustare come al solito perchè non portiamo altro se non sbustamenti oggi sbusteremo una piccola bombettina che ormai hanno fatto tutti però la portiamo a te mai perchè è troppo bella box di vestiti sfuggenti di Rai Quasa vero? lui non ce ne frega niente che gli hanno portati tutti sperando di sculare e trovare quel benedettissimo maledetto mi un ciao riserva ciao no io puntavo puntavo non so più basso necchini tu dai questo video della benedicini tu vabbè ragazzi eccoci qua allora nella schermata in basso è impossibile farvi vedere la grandezza di questa box perchè è gigantesco allora andiamo vabbè io lo devo aspettare questa abbondanza di carta non si vede un un kaiser però c'è il posterino ragazzi sono tutti i shiny tutti i shiny i tre uccelli che cosa ha la nostra box all'interno? allora la juambo di Rai Quasa che è enorme con attenzione alle carte promozionali questa è la juambo di Rai Quasa ecco inquadralla qua aspetta potete vedere se mette a fuoco questa della telecamera si è la juambo di Rai Quasa che è bellissima allora andiamo a vedere intanto se vuoi tirare fuori pacchetti mi dispone egola andiamo a far vedere le promozionali che sono veramente tanta roba le gold è la prima volta che le maneggiamo vabbè lo ce ne insuriamo cartone che vola bravissima allora vediamo le promozionali che sono all'interno iniziamo dalla prima Lunala GX Gold che ti piace? è fantastica è bellissima molto bella con aliante che sono di 50 Giavellotto Lunale che toglie 200 e Requiem GX bellissima è la prima volta che maneggiamo una gold ed è stupenda la lasciamo qua sullo sfondo perché è troppo bella adesso andiamo a vedere il nostro Rai Quasa GX bellissimo shiny che mi riporta troppo a Rai Quasa e a Gold Star ma quella è tutta altra roba e come ultima carta andiamo Sol Galeo anche questa è bellina ma secondo me Sol Galeo e Lunala scusatemi un pochettino più bella Sol Galeo e sull'Azzurro Lunala e sull'Viola si molto bella ruvidina anche questa e questa colpo turbo criniera lucente e statura GX non avevo letto quelli di Rai Quasa ma non fa niente Dragon Blitz, Rai Quasa GX e vento tempestoso molto sposo un po' più gravata un po' più gravata svegliamo anche Sol Galeo e ritiriamo qua sullo sfondo perché sono veramente bellini peccato che Rai Quasa faccia un riflesso terrificante eh della madre Anna allora divisi i pacchetti dai ne apri tu quattro su no lasciale uno qua uno sardino lasci qua e niente chi fa più punti con queste tre bustine si apre l'ultimo pacchetto avrò io arriva i dolci arriva i dolci attenzione partiamo col primo pacchetto facciamo il nostro site toic ma sai che a furia di sbussarle non sono più abituata a fare il trick ah pensavo non sono più interessanti Charmander Slowpoke Psyduck Pikachu Pikachu Magikarp l'energia fuoco Tenaccia di Brock Censi Graveler sono tantissime Caterpie Olorverse Napoleon olografico iniziamo con l'olografica non è molta roba ma vabbè passiamo al prossimo pacchettuzzo io direi di aprire Mew perché mi ispira vediamo se anche lui ispira Mew retira? si no è morto troveremo qualcosa? non si sa allora il codice facciamo il trick la quattro sono molto in confusione comunque ultimamente stiamo sbustando troppo senza la parte del trick si allora Jigglypuff Caterpie siamo un po' sfigati sto prendendo Paras Psyduck Charmander Energia Psico Magmar Palestra di Celesto Predimisti Suggerimento di Sabrina nooo Azz Cartana cioè shiny bellissima e Zardo scrivevo già olografico andiamo a metterlo qua sullo sfondo attenzione prima shiny della puntata allora Cartana che ha fendente celeste è un'ultra creatura bellissima ti piace? ci mancava questa è molto brutta perfetto però io mi posso in vantaggio un punticino andiamo a sbarla sta bruciando l'arrosto perfetto meglio meglio abbiamo la sicurazione lo so ok passiamo a Mewtwo passiamo a Mewtwo vai la sensibilità gustati il suo zardino per favore ma le fanno con lo mianto le fanno con le bottiglie le fanno con le bottiglie ops siamo già tre pacchette che attivo questo e poi adesso una shiny guarda c'è qualcosa che dici forse Shydak Shydak Romagnolo Stario Slowpoke Voltorb Energia Tuono Censi Esilio di Giovanni Trappola di Koga Bello Kibble Shiny ancora ma come ancora non ce l'abbiamo ma sei fuori non ce l'abbiamo io veramente io mi confondo bellissimo puoi vedere un'altra shiny siamo a uno hai fatto il punticino vediamo se riusciamo a superare Ila con il prossimo pacchetto questo c'ha la s***** quindi è molto e basta noi altri non sapranno cosa dico perché lo censuro attenzione non vedo sbellucicare ma perché le guardi prima si mi spoilerò tutto io trick eseguito abbiamo un Giadad un Eevee un Clefairy un Caterpie un Ekans energia a fuoco Scyther suggerimento di Sabrina addetta no c'è qualcosa addetta del centro pokemon para se abbiamo Wigglytuff GX ci manca ma mi fa veramente schifo vabbè allora con furie rotolante stella adorata GX ragazzi è una vergogna talmente esilarante questo sbustamento che io sto dormendo è il secondo sbadiglio che tiro è una vergogna veramente ragazzi vabbè comunque un altro punto siamo due a uno attenzione più 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 shiny mannaggia parte che secondo me dovrebbe essere obbligatorio a far nemmeno uscire una a box perché sennò veramente c'era spararsi ok Caterly Paras Charmander Clefairy Slowpoke Energia Acqua Magmar Tenacia di Brock Censy Basta Censy Basta Censy Madonna Maledetto Censy durissimo Leonica Ivi scusatemi ECCO Maledetto Lida rompi i coglioni ma non si fa mi sta deludendo questo box profondamente è un box è un box brutto cavolo via il codice trickeggiamo per dio che cosa fai non lo so vediamo attenzione un Paras un Cubone un Bottled un Cedar un Ivi energia buio Tenacia di Brock Graveler Parfetch Mr. Mine ragazzi si punta sull'ultimo pacchetto io ho vinto la sfida quindi aprirò l'ultimo pacchetto per ora attenzione prima di aprirlo abbiamo trovato solo questa roba qua e mi sta veramente diventando andiamo con l'ultimo pacchetto speriamo che esca qualcosa non è possibile che non esca almeno una GX o Xiaomi aia mi sa che non c'è nulla facciamo il trick ai 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 attenzione Cubone Giadad Giglibat Stario Ekans energia fota Charmillion Censi Isidi di Giovanni Censi un'altra volta e abbiamo ospitalità di evita ragazzi una che delusione io penso sia una delle delusioni più brutte che avevo mai avuto veramente delusione massima no peggio la delusione peggiore è stato il box di Puzio ragazzi iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto lasciate un bel mi piace non mi piace quello che volete insomma non è un problema e noi ci vediamo al prossimo episodio va bene ciao